Il curriculum vite è lo strumento più immediato per spiegare che cosa hai studiato e dove, quali sono le tue esperienze di lavoro, che cosa sai fare e, perché no, che cosa vorresti fare. Queste informazioni costituiscono il tuo bagaglio quando vai alla ricerca di uno stage, di un colloquio di lavoro, di un impiego o di un incarico professionale. Immagina il tuo curriculum come una valigia che si trasforma, che cambia forma e dimensione a seconda dell'uso. Diventa breve e conciso per una presentazione veloce, più lungo e articolato, quando ti serve entrare nei dettagli. Si adatta all'azienda o all'organizzazione a cui è destinato e mette in luce questa o quella competenza a seconda del contesto di lavoro. Il curriculum vite è la valigia nella quale i periodi di formazione e di lavoro aggiungono sempre nuovi elementi, prova della tua capacità di adeguarti alle diverse situazioni e alle mutevoli condizioni lavorative. Esistono vari modelli di curriculum. Per incominciare puoi usare il modello Europass, che è il più diffuso tra coloro che sono all'inizio della propria carriera o che stanno ancora studiando. Puoi scaricare il format dal sito di Europass, oppure compilarlo direttamente online. Tieni a mente che il curriculum non lo scrivi per te, ma per chi potrebbe sceglierti, quindi rendilo chiaro, funzionale e sintetico.